Cari lettori e lettrici, la novità letteraria che sto per presentare è un romanzo young and old che mescola magia, mistero e riflessioni profonde sui temi fondamentali della vita. La trama del libro Canzoni funebri per ragazze quasi morte della scrittrice Carrie e Di Maline, casa editrice Bonpiani, è la seguente. Winifred ha quasi 16 anni e vive da sempre nell'appartamento sopra l'ufficio del padre, che lavora nel crematorio del cimitero Winterson. Ha una lunga e pigra estate davanti a sé, da trascorrere trascinando il suo chihuahua grassoccio su un carretto rosso tre le tombe e coltivando una seria cotta per il suo migliore amico, Jack. I suoi vagabondaggi nel mondo di chi non c'è più, spesso a volta in abiti bizzarri presi in prestito dal guardaroba della mamma che non ha mai conosciuto, alimentano all'improvviso le voci che il cimitero si è stregato. Un'ottima notizia, perché il luogo diventa meta di visite di curiosi e il rischio che vende a chiuso? Decretando la fine del lavoro del padre, sembra allontanarsi. Tutto ciò che Winifred deve fare è ottenere l'aiuto della cugina troffatrice per alimentare la finzione con una messa in scena. Ma tra le tombe compare una creatura che viene davvero dall'aldilà, è Phil, il fantasma di una ragazza vissuta troppo velocemente e morta nella gola accanto al cimitero. Winifred, attratta da Phil, scoprirà con lei gli slanci e le ansie di un sentimento che cresce nell'ombra e dovrà interrogarsi sul senso della vita, della morte e dell'amore. Grazie per l'attenzione e buona lettura. Mi piacerebbe sapere cosa ne pensi della trama del libro presentato. Se hai voglia di condividere il tuo pensiero lasciami un messaggio. Celebra la magia della lettura condividendo questo video e aiutami a diffondere l'amore per i libri. A te non costa nulla, per me sarebbe un bel gesto di gratitudine. Ricorda, ogni piccolo gesto può fare la differenza. Per non perdere le novità letterarie iscriviti al canale.